Il giudizio della giuria? Milva che sta poco bene e la salutiamo e la ricordiamo con molto affetto. Tu hai preso la gestualità in pieno, Milva era la pantera di Goro, Iva Zanichi l'aquila di Ligonchio e Mina la tigre di Cremona. A quell'epoca era uno zoo ma erano una meglio di un'altra. Claudio Amentola. Dulcis in fondo, l'hai beccata proprio in pieno. Atteggiamento, voce, tutto l'hai presa totalmente. Luca Argentero. Brava questa è una imitazione perfetta. Non so che dire bravissima.